Al momento la situazione è gravissima perché oltre ad avere tantissime case private non agibili che appunto le persone si sono rifugiate al Palazzo Trosport che da alcuni giorni noi abbiamo aperto e dormono lì abbiamo una situazione critica anche per quanto riguarda le chiese, al momento non c'è una chiesa aperta a Campli e stamattina abbiamo avuto la notizia che anche Palazzo Farnese che tra l'altro è sede della COC che non è agibile quindi abbiamo una situazione di emergenza, i danni sono veramente ingenti considerando che già erano gravi con il sisma di agosto quindi abbiamo dichiarato lo stato dell'emergenza come giunta e quindi attendiamo che organi soordinati diano un riscontro a questa situazione veramente molto grave che stiamo cercando di affrontare con calma però è veramente critica. Ecco è stato comunicato ai cittadini, agli sfollati che stanno appunto al Palazzetto dello Sport che c'è la possibilità eventualmente di andare in delle strutture ricettive in questo caso sulla costa? Le persone vogliono rimanere nelle loro case perché ci sono i legami affettivi e quindi fanno sempre fatica a lasciare il nucleo familiare. O comunque vicino alle loro case? Sì, certamente. Tra l'altro alcune case sono completamente inagibili, quindi c'è anche difficoltà proprio a stretto giro di farle rientrare perché c'è una differenza tra classificazione E e B. C'è una situazione grave anche per quanto riguarda gli edifici pubblici su tutti il Palazzo Farnese che vedete, il Duomo, il Museo Arcologico, il Palazzo Marziale.